Continua il tour in Europa di David Cameron. A Bruxelles il primo ministro britannico ha incontrato il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, e i leader dei due principali gruppi politici. Con tutti Cameron ha parlato della ridefinizione dei rapporti tra Londra e Bruxelles, nonché della possibilità che il Regno Unito lasci l'Unione Europea, se il referendum di giugno dovesse deciderlo. Non posso garantire il successo dei futuri negoziati, e tuttavia è comprensibile che il primo ministro chieda al Parlamento Europeo di collaborare il più intensamente possibile, ha detto Schulz. Questa è l'assicurazione che ho dato al primo ministro. Faremo tutto il possibile per una intesa equa. In precedenza il capo del governo britannico era stato a Parigi per un colloquio con il presidente francese Hollande, con cui ha discusso gli stessi temi in vista del vertice europeo del 18 e 19 febbraio. Un portavoce della presidenza ha detto che si è registrata una comune volontà politica, ma resta ancora molta strada da fare.